Ok, boss Che cazzo, sapevo sul memoria questo tutto, mi sembra Primo stare sempre giù, non con nessuno Ok, adesso spara anche il bastardo Sì, non fare quelle cose Fianna Sì, la mascotte ultimamente non presenta molta voglia di partecipazione Vai, 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 no, cazzo, battuto, battuto Ok, abbiamo liberato Crunch Potere della super scivolata Continua e salva Ok, ci vediamo al prossimo mondo Torturativi Adios